Ciao bambini, voi volete diventare dei supereroi? Oggi costruiamo dei polsini. Il materiale è 4 rotoli di carta, un nastro per i pacchetti, i pennelli, le tempre, i pennelli, le forme, una matita HB e la colla. E dei fogli per disegnare. Cominciamo. Ok bambini, iniziamo. Colorate di blu con le tempere. O gli acquarelli. O gli acquarelli di blu per Superman. Di rosso per Wonder Woman. Una volta colorato, vedrete che i rotoli sono diventati così. A questo punto tagliamo il rotolo in centro. Così. Una volta tagliati, li mettiamo da parte. Togliamo le tempere che non ci servono più. e prendiamo un foglio di carta dove andiamo a disegnare la S per Superman e la stella per Wonder Woman. coloriamo. Cosa colori Mattia? La stella. La stella, se ce l'avete, è un penarello oro o glitterato. coloriamo. Non è indispensabile che sappiate colorare o disegnare in modo perfetto. Coloriamo tutto. Una volta colorati tutti, li tagliate e verranno fuori i due loghi dei supereroi così. A questo punto prendiamo il rotolo che avevamo tagliato, la colla e incolliamo. lo attacchi tu? Allora io incollo e lo incolliamo nel centro del rotolo. Mettiamo tanta colla e poi lo incolliamo nel centro dritto. Ok. Una volta incollato, così, dobbiamo fare i buchi dietro. Prendiamo le forbici, fatelo fare un adulto, e facciamo tre buchini. uno, schiacciare, 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 due, e tre. Ok. Ecco così. Infine, a questo punto avremo sei buchi. Adesso prendiamo il nastro e ne tagliamo un bel po'. Poi lo infiliamo nei buchi. Per facilitare la cosa, tagliamo a punta il nastro. Così riusciremo a infilarlo meglio. Molto meglio. Lo infiliamo come se fosse una scarpa. Così. Lo tagliamo anche dall'altra parte. E così è molto facile. Così. E fatelo fare a un adulto. E andiamo avanti. Per tutti i sei buchi. Quindi poi... Ecco qua. A questo punto il nastro sarà così. Eccoli qua. Sono venuti bene, vero? Adesso? Noi ne siamo venuti. hago. Però... che ho iljo. Che ho ok. Grazie a tutti